La palla purtroppo è andata a colpire il piede e quindi sarà assente. Una maglia per tre, perché potrebbe esserci Cagliecon, potrebbe esserci Cuome, ci potrebbe essere il Serica. Attualmente sembra che il Serica sia un pochino più in vantaggio rispetto agli altri due, però vediamo. Iachini ha detto in maniera molto semplice, l'Atalanta è forte, l'Atalanta è una squadra veramente importante, con un grande allenatore a qui che è dato il sì per la pantina d'oro, quindi tanti complimenti all'Atalanta. Io mi unisco a Beppe Iachini, perché effettivamente bisogna fare i complimenti all'Atalanta, che ormai è diventata una realtà del calcio italiano da diversi anni, sempre molto protagonista in Ciacchugli, sempre protagonista nel nostro campionato, sempre protagonista anche in Coppa Italia, però effettivamente ragazzi la palla è rotonda, domani sera dobbiamo scendere in campo e la Fiorentina servono tutti.